ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale questo è un video informativo di cui vi parlo del nuovo glitch dei soldi che troverete su dailymotion lascio il canale in descrizione quindi troverete tutto lì e sotto il video del glitch troverete anche i link delle gare per ps3 e ps4 xbox e xbox one per poter fare questo glitch insomma questo glitch è buono per diciamo tutte le console tranne che per pc quindi andate a vedere su dailymotion è un glitch con con bypass quindi potete vendere tutte le auto che volete una dietro l'altra ovviamente non ha preso pieno però 200.000 insomma non sono da buttare via quasi 200.000 non sono da buttare via e soprattutto le potete vendere una dietro l'altra che non è una cosa da nulla insomma per quanto riguarda la mia attività ultimamente che non sto facendo molti video ragazzi e il fatto che non sto facendo molti video è dipende da voi dipende da voi perché comunque fare dei video per me richiede tempo diciamo che impiego un pochino di tempo per fare dei video per fare le cosine e non ricevere appoggio dagli iscritti o comunque magari gente che viene sul canale vede il video non si iscrive cazzate varie certo non è che da molte soddisfazioni quindi sinceramente la cosa è un po diciamo disarmante insomma no quindi la voglia di fare video è poca e niente chi volesse continuare a seguirmi lo faccia io continuerò di tanto in tanto non so a caricare qualche video e magari spererei in un pochino più di appoggio da parte degli iscritti e anche dai visitatori sul canale per questo video è tutto un saluto da maxi e al prossimo video